Bello ragazzi io sono Martex e vi do benvenuto su un nuovo video di Fortnite E' stata appena rilasciata la patch 4.4 E all'interno del nostro armadietto potremo trovare una nuova feature molto figa Infatti come al solito ci sarà il nostro punto esclamativo Dovremmo cliccare appunto sulla nostra skin principale E andare a vedere quello che riguarda carburo Per quanto riguarda quest'ultimo ci sarà il modifica stile Una nuova funzione accanto alla scritta costumi Clicchiamo e vediamo che possiamo utilizzare il nostro carburo nelle seguenti 6 fasi Che abbiamo sbloccato man mano procedendo con i nostri livelli Quindi volendo noi potremo utilizzare carburo senza skin Proprio come era l'inizio del nostro battle pass appena l'abbiamo comprato Poi vi è la seconda fase, terza, quarta, quinta con la maschera Potremmo utilizzarlo anche senza maschera volendo quindi Oppure con il set completo ma poi cambiando colore Perché qui ci sarà il colore chiaro blu, il colore giallo, verde oppure rosa Quindi ci saranno 4 colori aggiuntivi da poter utilizzare all'interno del game A nostro piacimento Questa secondo me è una delle funzioni più fie che hanno aggiunto finora Perché c'è proprio la personalizzazione del proprio personaggio all'interno dell'inventario Sicuramente questa cosa non varrà solamente per carburo Perché più in là metteranno delle modifiche ai vari set che compreremo E ci saranno tante sorprese per noi Questo era un video velocissimo e brevissimo Per farvi vedere solamente questa nuova feature che è stata aggiunta appunto all'interno del nostro inventario Spero che questo video sia stato di vostro gradimento Un salutone da Martex Ciao brothers Ciao 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 Ciao